Sì esatto, secondo me l'abbiamo preso un po' sotto gamba all'inizio adattandoci magari un po' al loro livello però poi abbiamo comunque saputo tenere testa e continuare la partita stando noi comunque avanti e dominando noi. Sì, abbiamo puntato molto sul servizio, abbiamo detto fin dall'inizio della settimana che comunque il servizio poi essendo la prima parte dell'azione è fondamentale per mettere in difficoltà l'altra squadra, quindi abbiamo puntato molto su quello. Dicevamo di sì che ci sono state anche molte più occasioni anche perché ci sono stati più palloni, più feeling, man mano che va avanti il campionato stiamo riprendendo un po' tutti i ritmi. Sì, è stato molto importante per farci capire quanto sia appunto importante iniziare fin da subito e puntare a fare le cose più semplici nel momento giusto e non agitarsi se qualcosa non viene, cioè fare sempre le cose, non dico, non so se è la parola giusta, con tranquillità ma senza avere pressione di dover fare, fare, fare un punto alla volta e pensare all'azione dopo. Sicuramente ci avvicineremo a questo match preparandoci fin dall'inizio della settimana, studiando questa partita e puntando sui nostri fondamentali più forti fino ad ora che secondo me sono sicuramente la battuta e comunque stiamo facendo bene anche l'organizzazione a muro e posti quattro diciamo che siamo forti quest'anno. Io ci spero sempre che magari la promozione la guadagniamo noi e speriamo bene e vediamo come vanno le altre partite.